gentili telespettatori buona giornata rassegna stampa di giovedì 6 gennaio del 2022 partiamo con il corriere della sera obbligo di vaccino per gli over 50 il premier proteggiamo i più fragili shopping il carroccio ottiene che sia sufficiente il certificato base dal differenziale per chi non è immunizzato obbligo di vaccino per gli over 50 green pass per negozi banche parrucchieri la lega attacca draghi media nuove regole sui positivi a scuola succede che litigano per due ore e mezza nel consiglio dei ministri ma alla fine come sempre vince draghi e all'unanimità il governo dice sì all'obbligo vaccinale e qui vediamo il trafiletto la battaglia tra i ministri palazzocchigi non cede come vi dicevo alla fine vince sempre draghi andiamo a vedere la repubblica che titola vaccino obbligo per gli over 50 la stretta contro il covid il premier intervento sulla fascia d'età a rischio per salvare vite preservare gli ospedali e l'economia nuove regole per shopping banche e parrucchieri atenei il personale dovrà immunizzarsi scuola nelle classi medie superiori con due casi gli studenti novax andranno in didattica distanza stop a quattro partite di serie a la lega minaccia lo strappo ferma il super pass draghi tratta e alla fine c'è l'unanimità come vi raccontavo prima e poi andiamo a vedere la stampa che titola draghi media obbligo vaccinale ai cinquantenni in realtà non è ai cinquantenni ma è da tutte le persone dai 50 in 50 60 70 80 90 e 100 e poi abbiamo andiamo a vedere un altro quotidiano vediamo libero quotidiano che titola obbligo di siringa sopra i 50 anni draghi fa la guerra ai novax imposto il vaccino ai dipendenti più a rischio multe fino a 1500 euro a chi rifiuta in realtà la multa di 1500 euro è da 600 a 1500 euro per quelli che verranno beccati in un'azienda a lavorare senza il vaccino e che hanno più di 50 anni in realtà la multa per il novax che non vuole vaccinarsi e ha più di 50 anni sarà di 100 euro la lega protesta il premier molla non è più super mario in realtà è sempre super mario perché ha fatto quello che ha voluto la lega che cosa ha spuntato che per andare dal parrucchiere non ci vuole il super green pass insomma ognuno può vedere questi risultati come grandissimi o delle cose abbastanza insignificanti sta a voi e poi vediamo si punta su silvio ma se non dovesse andare intesa salvini meloni sul colle in realtà non mi sembra proprio una notizia perché meloni e salvini avevano già detto di sì a berlusconi quindi il titolo intesa salvini meloni sul colle non lo capisco però mezzo pd punta san mattarella conte non conta più nulla letta ora tratta con di maio al quirinale eviterei dementi e comunisti vittorio feltri lui è sempre un po colorito se mi permettete il termine e poi andiamo a vedere il giornale che ci scrive in prima pagina scontro sulla nuova stretta vaccini quasi obbligo il premier così salviamo vite dal 15 febbraio gli over 50 devono essere immunizzati se no arriva il multone di 100 euro diciamo una multa simbolica quasi un divieto di sosta serve il green pass base anche per banche uffici pubblici e centri commerciali scuola con quattro positivi in classe didattica distanza per 10 giorni e poi vediamo la fine dell'avvocato conte non governa nemmeno i suoi i 5 stelle e la leadership contestata c'è un video che ho fatto proprio su questo su tele italia seconda rete corsa per il quirinale le trame per draghi al colle ma i partiti lo lasciano al palo e poi vediamo a palazzo chigi serve continuità per il pnrr cavaliere ottimo presidente e l'inflazione si impenna e vola al 3,9 per cento mai così alta da 14 anni beh 14 anni gli possiamo comprare il motorino andiamo sul fatto quotidiano che titola dopo repubblica il corriere due indagini sui prepensionati notiziona ma andiamo a vedere misure fra 40 giorni il governo non c'è più obbligo di vaccini e gli over 50 discriminazioni a scuola in realtà l'obbligo è tra 40 giorni insomma non mi sembra proprio una misura di emergenza degreto il quinto in un mese liti con la lega e movimento 5 stelle ma draghi ancora non ci mette la faccia cosa vuol dire quest'ultima frase non si sa perché alla fine si è fatto quello che voleva mario draghi andiamo a vedere la verità ti fa male lo so vecino obbligo oltre i 50 anni torna la gogna degli studenti diritti umiliati sarà un caos inapplicabile antiscientifico carta rafforzata al lavoro per ultra 50 anni i quali sono tenuti alla puntura se disoccupati mistero sui controlli altra pazzia green pass base per barbiere banca posta uffici pubblici la lega almeno evita la vigliaccata del super con tre contagi alle medie le superiori faranno la dad solo i non inoculati la linea di macron voglio rovinare la vita chi rifiuta il vaccino e poi vediamo qua così gedi trasformava in manager in grafici va bene e poi andiamo a vedere caro prezzi dramma geopolitico salta per aria il kazakistan andiamo a vedere il tempo che ci parla di roma così libero roma da gabbiani dei cinghiali setolosi molto setolosi e vediamo che obbligo vaccino per 27 milioni ecco qua ve lo devo dire ieri ho fatto un video un'anteprima su il problema qui del dell'obbligo vaccinale e molti di voi hanno detto a c'è la notizia i novax sono 27 milioni no 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 allora che cosa dice il tempo obbligo vaccino per 27 milioni ma non vuol dire che ci sono 27 milioni di novax vuol dire che quelli da 50 anni in su in italia sono 27 milioni che hanno l'obbligo del vaccino ma magari 24 25 l'hanno già fatto ecco questa è la notizia non che 27 milioni sono novax bisogna anche leggere bene le cose insomma scatterà dal 15 febbraio da quel giorno multe niente stipendio ai novax salvo solo chi ha il reddito di cittadinanza e vendiamo la vignetta di oscio green pass anche per andare dal parrucchiere ormai senza tampone poi annasso la fare il tampone anvediga roba e poi flop della pulizia straordinaria e ora gualtieri corre ai ripari e poi sul colle tra pd e 5 stelle riprende quota il mattarella bis ma il ma però mattarella non ha nessuna intenzione sembrerebbe poi magari chi lo sa di maio vende gli immobili dell'ambasciata un'altra notizione strappolato così non vuol dire niente andiamo a vedere il messaggero obbligo vaccino a 50 anni la disposizione in vigore fino al 15 di giugno la sanzione per i trasgressori e 100 euro i lavoratori senza certificato saranno sospesi green pass richiesto per uffici pubblici e negozi riparte solo mezza serie a il premier che fa quello che c'è da fare bene e poi lega di senso con vista sul quirinale ebbene andiamo a vedere il sole 24 ore ultimo grande giornalone che ci dice che l'iva micro evasioni da 19,6 miliardi e poi qua covid la stretta di draghi over 50 obbligati al vaccino grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata